manca poco alla fine della settima edizione del grande fratello vip un programma durato oltre sei mesi che ha fatto compagnia ad oltre tre milioni di telespettatori su canale 5 protagoniste del reality show orietta berti e sonia bruganelli che in qualità di opinioniste hanno movimentato la trasmissione con i loro commenti e le loro opinioni una coppia unita e affiatata nonostante le divergenze d'opinioni orietta berti e sonia bruganelli sono sempre andate molto d'accordo al gfvip al contrario di quanto accaduto lo scorso anno quando la moglie di paolo bonolis ha litigato praticamente tutto il tempo con la collega adriana volpe scontri e discussioni che hanno turbato signorini tanto che il conduttore ha preferito riconfermare la bruganelli ma non l'ex conduttrice rai in un'intervista rilasciata a tele 7 orietta berti ha svelato la richiesta ricevuta da sonia bruganelli creiamo una coppia bellissima ci siamo piaciute subito perché diciamo sempre quello che pensiamo è nata una bella amicizia mi ha chiesto di tenerci in contatto anche a programma finito e io le ho detto subito di sì dunque il rapporto tra orietta berti e sonia bruganelli andrà avanti pure dopo la fine del grande fratello vip 7 e chissà che le due non tornino a lavorare insieme in un altro programma difficilmente ritorneranno nello studio di cinecittà la cantante che negli ultimi anni è diventata una delle più richieste in tv e non solo dovrebbe tornare in rai a che tempo che fa di fabio fazio non sono esclusi altri nuovi progetti lavorativi diversa invece la posizione di sonia bruganelli la produttrice ha ammesso di essere pronta a mollare il gfvip ma in un ospitata a casa chi condotto da sofico degoni ha confessato che non c'è ancora nulla di definitivo insomma il futuro è decisamente tutto da scrivere di sicuro c'è chi scalpita per sedersi sulla poltrona da opinionista grazie a tutti Grazie per la visione!